ciao a tutti prepariamo insieme la crema bimbi pistacchio gli ingredienti che servono li trovate all'info box e anche qui di seguito 200 g di pistacchio al naturale sgusciati e spellati tostati 100 g di zucchero 500 g di latte 40 g di farina 2 uova acqua quanto basta cubetti di ghiaccio quanto basta mettiamo nel boccale i pistacchi e lo zucchero e tritiamo per 20 secondi velocità 6 riuniamo sul fondo con la spadola dopodiché riposizionato il misurino andiamo a tritare per un altro minuto velocità 6 riuniamo sul fondo con la spadola ridiamo nuovamente per un minuto velocità o 6 fino ad ottenere una consistenza simile a una crema aggiungiamo adesso il latte la farina le uova e facciamo cuocere per 7 minuti 90 gradi velocità 4 nel frattempo riempiamo una ciotola con acqua e ghiaccio trasferiamo la crema in questa ciotola e ricopriamo con pellicola trasparente facendola aderire alla superficie e la posizioniamo all'interno dell'acqua con il ghiaccio questa crema è ideale per farci le torte, ciambelle, per fare dei pasticcini, ripieno dei muffin una crema al pistacchio dal colore un po' più verde, più brillante è necessario rimuovere completamente la pelle dei pistacchi quindi prima di tostarli bisogna scottarli in acqua calda per un minuto e lasciarli in ammoro in acqua calda per altri 5-10 minuti scolare e rimuovere la pellicina con le mani gli ingredienti sono riportati anche nella info box se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella se ancora non l'hai fatto per essere aggiornato sulle nuove ricette alla prossima grazie a tutti